L'Atteria Sociale Valtellina festeggia 40 anni dalla fondazione e si espande. Un nuovo stabilimento, nuove acquisizioni e nuove produzioni. Due anni di lavoro, 3 milioni di investimenti per 4.000 metri quadrati. Siamo nel nuovo polo produttivo di Trivate, poco distante dalla sede di De Lebio. La struttura, risultato dell'ampliamento dell'edificio già esistente, è stata inaugurata a fine del 2018. Nel 2018 abbiamo inaugurato tutta la logistica nuova. Siamo ancora qui nel territorio di De Lebio, dove avevamo già un deposito di oltre 30.000 forme. Stiamo lavorando a Postalesio per la seconda linea del latte, perché facciamo la seconda linea del latte, dove facciamo anche il mezzo litro, dal litro al mezzo litro. Lì troviamo la seconda linea, perché con una linea sola eravamo sempre lì in poco, perché se si rompeva una mattina non ci poteva più consegnare il latte. Adesso stiamo lavorando però su spese molto importante per la nostra cooperativa. La cooperativa è attiva a livello produttivo dal 1979 con la struttura principale di De Lebio, che poi negli anni si è evoluta e ha inglobato altre cooperative. Ultima la struttura, quella di Postalesio nel 2014 sostanzialmente. E poi ha sviluppato altri centri, quello dove siamo in questo momento, che è il centro di stagionatura principale, che poi da quest'anno è diventato anche il centro logistico per quanto riguarda sia il confezionamento che la stagionatura e prima ancora appunto quello che è poi dopo diciamo tutta la parte che si occupa diciamo dello smettamento dei formaggi. Oltre diciamo alle due sedi principali la latteria gestisce la latteria di Dongo sul lago di Como, la latteria di Bellagio dall'anno scorso, una piccola latteria diciamo di Mezzacosta che è una latteria di Albaredo e la latteria in Alpeggio per la produzione del bitto diciamo nel periodo da giugno a settembre e ultimo un magazzino di stagionatura a Chiavenna, un crotto, diciamo il classico crotto. Ci sono due grandi categorie di formaggi che sono diciamo logicamente sempre sviluppati sulla base diciamo della tradizione locale, quindi formaggi molli e formaggi semiduri. Per formaggi molli si intende formaggi con una breve stagionatura e a crosta fiorita quindi con la crosta bianca essenzialmente e sono per quanto riguarda diciamo i quantitativi e i numeri il piattone, lo shinudin, i formaggi di capra che raccogliamo anche prima ho dimenticato anche il latte di capra e formaggi semiduri che sono i formaggi sostanzialmente i D.O.P. della Lombardia e i due D.O.P. della provincia di Sogno che sono Valtellina Casera e il bitto più una serie diciamo di formaggi di latteria classici tradizionali, Vallesina, Latteria dell'Ebio, Shimut e così via. Alcune produzioni locali che sono invece proprio nel casificio di Dongo e nella latteria di Bellagio specifiche proprio sviluppando quello che erano le tradizioni casearie locali. Come numeri stiamo parlando di per quanto riguarda il casera circa 120.000 forme all'anno di Valtellina Casera arrivando poi a circa 200.000 forme con il resto diciamo delle altre produzioni. Per quanto riguarda i formaggi molli diciamo che mediamente si parla settimanalmente di circa 10.000 pezzi di piattoni e migliaia diciamo di 1.500 shimudin e diciamo formaggi poi qualcosa in più diciamo per i suoi altri formati. In questo momento stiamo arrivando perché stanno entrando dei nuovi conferenti, siamo intorno ai 110 aziende agricole che conferiscono il latte, quindi siamo intorno ai 3.400.000 litri di latte raccolto nell'arco dell'anno con un fatturato se logicamente vorrei il 2018 appena terminato poi diciamo che la parte economica è quella che meno mi compete ma siamo intorno diciamo superiamo i 30 milioni di fatturato all'anno. Una realtà che punta in primo luogo a valorizzare i prodotti, il territorio e i produttori locali. Ecco perché la cooperativa sta pagando, pagando un po' di più del prezzo regionale, stiamo dando, penso, più o meno, ritengo che stiamo dando delle belle soddisfazioni ai nostri elevatori, i nostri elevatori stanno crescendo, ma sta crescendo un po' la cooperativa, questo è un po' la nostra realtà. I prossimi progetti sono di andare oltre i confine. Stiamo lavorando per l'estero però è sempre un po' difficoltoso perché dobbiamo fare tutto con le nostre forze, è molto difficile, però piantino sta crescendo, si lavora. Stiamo lavorando per l'estero per l'estero per l'estero per l'estero per l'estero.